La collezione Serpenti di Bulgari, per me, dimostra che la longevità di un'idea affonda le proprie radici nella qualità della materia e della sapienza manuale, un concetto che cerco di portare avanti anche nelle mie opere. I metalli sono un elemento essenziale della mia ricerca, la lamiera battuta, deformata o piegata, è il linguaggio attraverso cui interagisco con l'ambiente, giocando con le percezioni di chi la osserva. L'immagine riflessa sul metallo è fusione visiva di reale impossibile, di soggetto e oggetto, passato e futuro saldati nel presente. L'arte deve avere la qualità dell'eterno, nonostante la ciclicità della vita, e l'uroboro, il serpente che si morde la coda, per me rappresenta questo. L'arte deve avere la qualità dell'eterno, nonostante la ciclicamente, per me rappresenta del tutto. L'arte deve avere la qualità dell'eterno, nonostante la ciclicità della vita, è un'esprevente, è un'esprevente. L'arte deve avere l'esprevente, è un'esprevente. Grazie a tutti